La compagnia aerea low cost britannica EASIGET ha avviato WorldVide by EASIGET, un nuovo servizio per prenotare coincidenze con voli per destinazioni lontane servite da altre compagnie. L'idea è di poter prenotare, per esempio, un viaggio da Milano dove EASIGET è operativa a New York, su una rotta che invece non è coperta dalla compagnia aerea. Il sistema consente in questo caso di prenotare un volo da Milano verso l'aeroporto di London Gatwick con EASIGET, e di proseguire poi con una coincidenza verso New York gestita dalla compagnia aerea norvegiana. Per ora il sistema funziona solo da Gatwick, e con norvegiana EASIGET, ma EASIGET confida di estendere il servizio con altre società nel corso dei prossimi mesi. Questa soluzione consente di acquistare i biglietti per una destinazione non coperta da EASIGET con un'unica operazione, senza dovere ricorrere agli acquisti separati delle singole tratte.